Restare calmi e concentrati, lasciare da parte il rancore per quanto successo e scendere in campo per far vedere il meglio contro l'Espier che la Fiorentina deve ripartire da qui. Vincenzo Montella lo ha detto chiaramente nella conferenza stampa in cui Borca Valero ha cercato di fare chiarezza sull'episodio che gli è costato quattro giornate sul quale si spera che qualcuno si ravveda. Lo ha detto chiaro, dicevamo il tecnico Viola, basta lamentarsi in campo con il direttore di gara, le decisioni vanno accettate in sostanza nella speranza che dalla parte opposta anche il clima migliori. Il meteo sicuramente no. Pioggia assecchiata e sull'ultimo allenamento al Franchi dei Viola prima della gara con i danesi di Euroleague con attenzione al lavoro atletico e alla parte tattica. Poi si penserà al resto, per ora c'è da passare il turno partendo dal 3-1 in Danimarca. A proposito, dal canto loro il tecnico del Lesbic ha dichiarato che scendere in campo solo con le seconde linee. Ce la metteremo tutta ma penso al campionato visto che la qualificazione se n'è andata.